Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior monitor gaming. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo LG 27G N650. Il monitor Ultra Gear di LG è un monitor di alta qualità, full HD gaming che dispone di HDR10 per colori mozzafiato e contrasto, tempo di risposta di 1ms per un gameplay fluido e compatibilità GSYNC per grafica senza lacrime. Il pannello IPS assicura colori accurati e una visione da qualsiasi angolo, mentre Crosshair e Dynamic Action SYNC ti aiutano a portare il tuo gioco a livello successivo. LG non ha ancora rivelato il prezzo del suo ultimo monitor Ultra Gear, ma vi aggiorneremo quando questa informazione sarà disponibile. Restate sintonizzati per ulteriori notizie su LG Ultra Gear qui su E-Technics. La nuova linea Ultra Gear arriva solo pochi mesi dopo il suo predecessore, l'ultraoide Gaming Monitor. I nuovi monitor sono rivolti ai giocatori che vogliono specifiche di alta qualità, ma non vogliono vendere i loro reni per comprarne uno. Numero 4. HP Gaming. Il monitor Homem combina una frequenza di aggiornamento veloce di 144 Hz con la tecnologia Nvidia GSY-NC per offrire l'esperienza di gioco più fluida e veloce. L'ampio schermo da 25 e la sottile cornice da 6,9 mm offrono un'esperienza visiva coinvolgente che porta i giochi alla vita. Un fulminio 1ms tempo di risposta e rapporto di contrasto elevato si combinano per fornire immagini nitide e croccanti e colori coerenti in tutto il display. Homem 25 Gaming Monitor di HP è progettato per i giocatori seri che vogliono un gameplay fluido ad alta risoluzione con un ampio schermo da 25 che offre un contrasto eccellente e colori accurati. La veloce frequenza di aggiornamento di 144 Hz dell'Homem 25 e il tempo di risposta di 1ms permettono un gioco fluido e reattivo senza sfocature o ghosting degli oggetti in movimento. 3 gradi posto CLG Il monitor LG Ultra Gear Gaming è un monitor da gioco di fascia alta che offre risoluzione Full HD, HDR10, 400cd barra M2 di luminosità e 1ms di tempo di risposta. Il monitor dispone anche di Radeon Adaptive SYNC 144 Hz e GSYNC compatibile 144 Hz per garantire un gameplay fluido per qualsiasi tipo di gioco. Inoltre, il pannello IPS permette la visualizzazione da qualsiasi angolo, mentre lo stabilizzatore nero mantiene alta la visibilità nelle scene scure. Schermo multitasking, schermo diviso e modalità di lettura forniscono funzionalità aggiunte, e le connessioni includono 2xHDMI e 1x DisplayPort. Il monitor è disponibile in 27 pollici e 31,5 pollici wide, ma la nostra attenzione è ovviamente sulla variante da 27 pollici. Un degno concorrente dell'Asus MX279H. Numero 2, BenQ. Il monitor LED di BenQ è un display Full HD da 27 pollici che presenta una cornice edge-to-edge, un design elegante e molteplici opzioni di connettività. Il monitor LED di BenQ offre colori ricchi e vibranti con la comodità di molteplici opzioni di connettività. Questo display con risoluzione Full HD 1080p è dotato di ingressi HDMI, DVI e VGA per facilità. Un sistema di gestione dei cavi nasconde i cavi all'interno del supporto del monitor per mantenere il vostro spazio di lavoro pulito e ordinato. La tecnologia Brightness Intelligence regola attivamente la luminosità a seconda del contenuto sullo schermo e condizioni di luce ambientale, offrendo un maggiore comfort di visione e un ridotto affaticamento degli occhi. Inoltre, la tecnologia Flicker Free aiuta a ridurre lo sfarfallio sullo schermo per un'esperienza di gioco e multimediale più confinante. Infine, il numero 1 della nostra lista, Samsung Monitor. Il Samsung è un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD 1920x1080. Il tempo di risposta veloce di 1ms migliora l'esperienza di gioco, mentre la modalità di gioco ottimizza le immagini e il colore per una maggiore giocabilità. È anche dotato di Magic Upscale per migliorare la qualità dell'immagine quando si visualizzano foto digitali o si guardano video. Inoltre, ha un design ad alta efficienza energetica che riduce il consumo di energia fino al 30% rispetto ai modelli precedenti. S24D330H ha diverse modalità specifiche per il gioco, tra cui la modalità FPS che migliora le aree scure e illumina lo schermo per un migliore contrasto. C'è anche la modalità RTS che riduce la luce blu per aiutare gli utenti a vedere più dettagli nelle aree scure. E sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.